Ci sono persone che dicono che quando doppio uso sempre la stessa voce, ma ne siete sicuri? Solo io, il vostro compagnero Bo. Portate la mia carrozza per i mari e raccontate la mia storia. Ragazzi, guardate, là in cima al trattore, è un gattino. Grayskull, la luce della quale ho tentato di servirmi, è lo strumento di un soldato, uno che combatte per volere altro. Oppure quando abbiamo preparato a Emy quella torta con la crema al cocco. Buongiorno, Zia Volca. Ben svegliato, Sammy. Sammy! Sembra che lo scontro... Ormai stia per concludersi. E se sei malinconica, io ti divertirò!